Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti qui sul mio canale sono Alegaver97 e quest'oggi siamo qui come avete potuto leggere il titolo su il vlog della WWE Live a Roma Vi faccio questa breve intro perchè la videocamera mia ha deciso di non registrarmi l'audio della prima parte e quindi faccio questa breve intro Quest'oggi ragazzi andrete a vedere quello che ho visto io con i miei occhi ragazzi sono andato a vedere la WWE Live a Roma al pala automatica insieme al mio amico Simone Quindi ragazzoli mi raccomando supportate questo video, un like, un commento qui sotto se questo video vi è piaciuto e condividete questo video Ragazzi veramente chi non condivide è un bufo ragazzi chi non condivide è un bufo Vi lascio il video perchè non c'è minuto da perdere guardatevelo tutto anche se forse durerà un pochino Però ragazzi vi giuro che è veramente qualcosa che non dovete perdervi dall'inizio alla fine E allora non mi resta che dirvi buona visione Allora ragazzi eccoci qua guardate qui dietro signori siamo al pala automatica Aspetta pala automatica Così così aspetta Non so se sto vedo in fondo Eh si aspetta Eh vabbè Ragazzi comunque sto a provare questa videocamera per fare il vlog Ma ragazzi esatto Ragazzi è meglio solo per farla in video E quindi ragazzi stiamo andando al pala automatica abbiamo parcheggiato a Monculo perchè non si trovava parcheggio Evento WWE E regà E regà Io vi posso dire che c'è troppa cazzo di gente Nooo Ci culeranno con tanti disegni con la macchietta fotografica Ti ho parlato a macchietta fotografica ho letto che non si può portare dentro Però noi portavamo il telefonino e quindi scialla C'è alcune ragazze di capito e scialla proprio E quindi vai ti muovi qualcosa Che tanta la strada ragazzi Che tanta guardate sta laggiù Si vabbè Certo In quadra Non so neanche cosa si vede raga Comunque Va bene ok E vabbè niente allora ma arriviamo al pala automatica e ci vediamo dentro Anzi forse fuori perchè adesso vi metterò qualche clip Direttamente dell'evento e poi ci vediamo a fine video Bella regà Ma finito Se ne potevo spreccare Eccolo Se ne potevo spreccare Oh Se ne potevo spreccare Ai copilare Eccolo Allora roma e è il corso la tag team champions Grazie a tutti! 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 ! 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 !!! !,!x!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!! Bref!!!!! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.